Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'acqua alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, lievito per dolci, farina di tipo 00, acqua, zucchero a velo, olio di semi di arachidi, vanillina e un pizzico di sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e li facciamo dritare per 20 secondi a velocità 8. Aggiungiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo lo zucchero a velo, la farina di tipo 00, il lievito, la vanillina e il pizzico di sale. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'acqua e l'olio. Facciamo amalgamare per tre minuti a velocità 4. Versare adesso il composto in uno stampo con chiusura a cerniera del diametro di 24 cm, foderato sul fondo con carta da forno e imburrata ai laterali con il nostro staccante per teglie, e cuociamo in forno per riscaldato statico a 160 gradi per circa 40-45 minuti. Fate sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta all'acqua alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!